Buongiorno, mi chiamo Viviana Gizzardi. Oggi vedremo insieme una sequenza di esercizi studiati appositamente per quelle persone che per motivi professionali passano molte ore in piedi e hanno la schiena soprattutto sottoposta a sovraccarichi a causa della necessità di aiutare pazienti non autosufficienti negli spostamenti. La ripetizione continua durante la giornata di questi gesti, molte volte in posizioni non corrette dal punto di vista posturale porta ad un accumulo di tensione muscolare che genera dolore e in alcuni casi può sfociare in delle situazioni più complesse come per esempio dolore cronico, contratture o anche ernie. È quindi importante eseguire quotidianamente una serie di esercizi in grado di normalizzare la situazione. Partiamo dagli stesi per terra, vi consiglio di tenere a portata di mano una serie di cuscini che potranno esservi di aiuto per rendere le posizioni più confortevoli. Ci sdraiamo quindi con la schiena sul pavimento ed in questa posizione verifichiamo se il collo è allineato oppure se il mento tende ad andare verso l'alto generando tensione nel collo o nelle spalle. In questo caso vi consiglio di mettere un cuscino sotto la nuca per favorire l'allineamento del collo. Da questa posizione portiamo poi un ginocchio verso il petto e appoggiamo entrambe le mani sul ginocchio. Ora iniziamo a distendere lentamente l'altra gamba sul pavimento. Una volta raggiunta questa posizione concentriamoci sulla gamba che abbiamo disteso. Infatti la gamba raccolta al petto non fa praticamente nulla e sta qui grazie all'appoggio delle mani e al loro peso. La gamba distesa sul pavimento invece inizia a lavorare lentamente cercando di distendersi e allungarsi il più possibile. Per fare questo immaginate di spingere con il tallone lontano da voi e di cercare di ridurre lo spazio che c'è tra la parte posteriore della coscia del ginocchio e il pavimento. Nel fare questo lavoro mantenete una respirazione lenta e regolare e provate a tirare leggermente in dentro l'unghelico spingendolo verso il pavimento ogni volta che espiate. Manteniamo questa posizione per circa un minuto dopodiché rilasseremo la gamba distesa e torneremo a piegarla. Passeremo poi per un istante con entrambe le ginocchia al petto favorendo un appoggio più profondo della zona lombare sul pavimento per poi andare a distendere l'altra gamba ed eseguire lo stesso identico esercizio anche dall'altra parte. Una volta terminata l'esecuzione di questo movimento tornate ancora per un istante con entrambe le ginocchia al petto e poi successivamente appoggeremo i piedi a terra avendo cura di fare il movimento con un piede alla volta. Quando i piedi saranno appoggiati sul pavimento teneteli alla larghezza dei fianchi o anche leggermente più separati e poi aprite le braccia in fuori. Ora potete portare le braccia in fuori fino ad averle distese sulla linea delle spalle. Da questa posizione iniziamo a far oscillare leggermente le gambe a destra e a sinistra con un movimento che è lento e morbido. All'inizio questo movimento provocherà semplicemente un alleggerimento del bruto opposto sul pavimento. Se non c'è una sensazione di particolare fastidio possiamo poi andare ad aumentare gradualmente l'oscillazione tenendo conto che più il movimento diventa ampio più deve diventare lento. Alla fine espirando lasceremo cadere le gambe di lato e ci perveremo in questa posizione. Se la posizione è particolarmente scomoda potete correggerla infilando un cuscino sotto un ginocchio o addirittura tra le ginocchia per ridurre la tensione sul lato del corpo e sulla zona lombare. Altrimenti mantenete questa posizione cercando di lasciare le scapole perfettamente appoggiate a terra rilassate, lo sguardo rivolto verso il soffitto e portate ancora una volta l'attenzione alla respirazione che deve essere lenta e profonda. Mantenete questa posizione per un minuto dopodiché espirando raddrizzeremo prima una gamba e a seguire anche l'altra. Dopo aver appoggiato bene nuovamente la zona lombare sul pavimento e riassustato la posizione dei piedi eseguiremo poi lo stesso movimento lasciando cadere le ginocchia dall'altra parte. Ancora una volta terminato questo esercizio e ritornati in centro vi suggerisco poi di passare ancora almeno un minuto con entrambe le ginocchia al petto favorendo l'appoggio della zona lombare sul pavimento. Successivamente ci portiamo nella posizione su quattro appoggi con le mani esattamente alla larghezza delle spalle e le ginocchia alla larghezza dei fianchi e lavoriamo la mobilizzazione della colonna estirando contraendo leggermente i glutei e tirando in dentro l'ombelico portando il mento vicino al petto creato una gobba che verrà mantenuta per tutto il tempo della espirazione e poi durante la inspirazione riallineeremo la colonna senza sollevare il mento e portare lo sguardo in avanti ma concentrandoci sull'allungamento. Ancora una volta quando espiro poi contrarò leggermente i glutei tirerò l'ombelico in dentro per andare a arrotondare la colonna il più possibile. Eseguite almeno una ventina di questi movimenti. Concludiamo poi la sequenza con un esercizio di allungamento e di rilassamento per cui avrete bisogno di una parete. Posizionateli vicino alla parete, distendeteli sul fianco e successivamente portate le gambe in alto per appoggiare i talloni contro la parete. Da questa posizione potete decidere di tenere le ginocchia leggermente piegate se c'è molta tensione oppure di distendere le gambe per sentire l'allungamento della muscolatura posteriore delle cosce. Più il sedere sarà vicino alla parete maggiore sarà l'effetto di allungamento dell'esercizio. Se la posizione della testa dovesse ancora una volta essere scomoda ricordatevi che potete appoggiare la nuca su un cuscino. Ora in questa posizione rilassate le braccia ai lati del corpo, chiudete gli occhi e dedicatevi ancora una volta all'ascolto della respirazione. Qui più che nelle altre posizioni ogni volta che stirate cercate di tirare in dentro l'ubelico favorendo così progressivamente un po' alla volta l'appoggio della zona lombare sul pavimento. Mantenete questa posizione per almeno un paio di minuti dopodiché ripiegate le gambe, ruotate sul fianco, rimanete un istante ruotate sul fianco e poi aiutandovi con le braccia mettetevi lentamente seduti. Dopo quest'ultimo esercizio ricordatevi per favore di non alzarvi in piedi immediatamente perché la posizione e la respirazione lenta e profonda potrebbero far sì che alzandovi sentisse la testa girare. Quindi rimanete seduti alcuni istanti prima di alzarvi. Buon lavoro!